Ciao persone del futuro, questa è la vostra Elisa Giudici a.k.a. Gardi che vi fa un brevissimo video per farvi vedere la sala sotterranea del The Space Cinema Odeon. Ci sono ancora in cinema? Quando vivete voi, dove vivete voi? Boh non lo so, l'ho già fatto con il cinema pollo. Adesso purtroppo siamo di fronte a un'altra chiusura, semi chiusura, innovazione, ridimensionamento, non si sa. Quindi nel caso faccio un breve video per mostrarvi la sala che non sapremo se nel futuro ci sarà ma presto chiuderà per rinnovo, abbattimento, chiusura, non lo so. Ne abbiamo già celebrato il funerale almeno un paio di volte e oggi 25 luglio, forse è quello definitivo. Quindi let's go! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!